non si è dato il giusto risalto ed anzi il mainstream ha cercato subito di minimizzare ovviamente su veline giunte da chi di dovere, dagli amici degli amici degli amici amici dai gran maestri sulla questione di questo articolo che possiamo vedere per cortesia che è uscito su BMJ BMJ è il British Medical Journal, eccolo qua questa è la versione in inglese originale perché questo l'articolo è in inglese noi traduciamo una parte, invitiamo le persone a farlo noi abbiamo già indicato il link in un altro nostro intervento che abbiamo fatto e che è già pubblicato in rete, quindi c'è già il link questa storia dopo la nostra denuncia è uscita un po' dappertutto sta facendo un po' il giro, però stanno cercando tutti di fermare fermi tutti, no non è niente, non è niente un corno è una cosa gravissima dove voglio dire ci sono già tante persone in tutto il mondo che stanno studiando la faccenda che è di una gravità eccezionale e che noi rileggiamo velocissimamente perché è molto tardi, in due minuti ma soltanto nei punti un po' più salienti un giornalista investigativo, scientifico, Paul Tucker di altissima reputazione, infatti non è stato assolutamente lui non gli hanno potuto dire nulla cioè il fatto non è stato smentito, non può esserlo però fanno passare lo sbufalamento come gli piace a questi ormai questi mercenari della menzogna perché i menzogneri sono loro, l'abbiamo già dimostrato in altre occasioni stanno cercando di minimizzare dicendo beh no però non è niente sì è vero però alla fine è uno che dice, l'altro che fai capito? ecco, quando non possono cercare di trovare alla fine dicono ma no ma è una scemenza non gli è da retta però leggiamo che cos'è che cosa accade? Accade che quando si deve immettere un farmaco in circolazione soprattutto la prima volta è necessaria una sperimentazione questa sperimentazione ha dei tempi lunghi giustamente perché si devono attendere le reazioni però qui si è voluto accelerare e quindi Pfizer aveva fatto una dichiarazione l'amministratore delegato Albert Burla aveva pubblicato una lettera aperta a miliardi di persone in tutto il mondo qui io leggo direttamente dall'articolo l'articolo ripeto è pubblicato da Paul Tucker con tanto di documenti depositati a BMJ altrimenti non li avrebbero fatto pubblicare premesto che BMJ ripeto è fra le prime cinque riviste scientifiche più importanti al mondo quelle di Mario Tozzi che gli piacciono tanto ecco, quindi come si dice la sede col prosciutto ogni tanto viene tolta quindi Albert Burla diceva a miliardi di persone che stavano investendo le loro speranze in un vaccino contro il covid sicuro ed efficace per porre fine alla pandemia aperte virgolette come ho detto prima stiamo operando alla velocità della scienza allora già questa frase la velocità della scienza allora Burla qual è la velocità della scienza? sarà quella della luce magari un giorno spiegacelo magari poi un giorno spiegaci cos'è la scienza che mi sa che tu non l'hai ancora capito noi ogni tanto lo spieghiamo però vabbè lo diciamo un altro giorno ok hai detto già una cazzata comunque Burla di nome e di fatto ok spiegando al pubblico quanto potevano aspettarsi l'autorizzazione di un vaccino Pfizer cioè questi dovevano sbrigarsi ecco quindi che cosa è successo? che che Pfizer ha incaricato diverse aziende diverse aziende diverse organizzazioni di ricerca di fare questi test obbligatori per le autorizzazioni uno di questi si chiama Ventavia Research Group che praticamente era stata incaricata in Texas di fare queste indagini di una parte credo intorno al 3% di candidati le famose cavie per vedere che cosa succedeva il problema il problema è che questa società secondo le ricerche di Paul Tucker ha praticamente falsificato tutti i dati ha scoperto i pazienti e ha impiegato vaccinatori non adeguatamente formati è stata lenta nel seguire gli eventi avversi riportati nello studio cardine quando dice ha scoperto i pazienti che cosa vuol dire? quando si fanno queste indagini a una parte di persone si dà il vero farmaco all'altra si dà un placebo generalmente acqua distillata va bene? e si vedono le differenze di reazione dei due dei due gruppi ovviamente le persone che ricevono il placebo e quelle che ricevono il farmaco reale non devono sapere che quale delle due hanno ricevuto si chiama infatti in doppio cieco ok? questo per spiegare quindi i nomi non devono essere noti neanche a loro stessi nessuno deve sapere tranne ovviamente quelle pochissime persone riservatissime che ma neanche chi lo inocula chi lo inocula deve ricevere una fiala che è identica spiccicata all'altra non lo sa nemmeno che sta iniettando acqua distillata lo sanno soltanto a monte pochissime riservatissime persone che segretissimamente poi devono stilare un rapporto sui dati appunto degli eventi avversi o positivi che 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 verranno poi che che accadranno poi successivamente secondo il protocollo ok che cosa è accaduto invece è accaduto che il personale che ha condotto i controlli di qualità è stato sopraffatto dal volume di problemi riscontrati cioè dagli eventi avversi dopo aver ripetutamente informato Ventavia di questi problemi il direttore regionale Brooke Jackson una donna ha inviato un reclamo tramite email alla Food and Drug Administration perché gli ha inviato questo reclamo Brooke perché purtroppo dentro Ventavia facevano orecchie da mercante cioè lui glielo diceva guardate qui le cose non stanno andando bene guardate che non stanno andando bene non stanno andando stanno andando bene e questo che ha fatto ha preso giustamente per la sua responsabilità perché è una ricercatrice di lunghissimo corso e ha mandato un email alla FDA che sarebbe come la nostra EMA europea va bene ecco e quindi la società del farmaco americana che è successo che praticamente ha inviato un reclamo Ventavia si è incazzata e l'ha licenziata allo stesso giorno in tronco ok la Jackson ha fornito al BMJ cioè alla rivista che ha pubblicato alla rivista scientifica questa qui British Media Journal che ha pubblicato questo articolo decine di documenti aziendali interni foto, registrazioni e audio email per e le ha date ovviamente al giornalista Portaker che le ha versati poi al BMJ per far vedere guardate che io quello che vi dico è vero e infatti è stato pubblicato l'articolo e nessuno ha potuto dire che non fosse vero l'articolo prosegue spiegando intanto chi è Ventavia spiegando chi è la Jackson che è un revisore esperto di studi clinici in presidenza aveva ricoperto la posizione di direttore delle operazioni è arrivato in Ventavia con oltre 15 anni di esperienza nel coordinamento e nella gestione della ricerca clinica esasperata dal fatto che Ventavia non avesse non si fosse interessata per i suoi problemi scusate la traduzione bisogna farla al volo la Jackson ha documentato queste questioni e una sera rimanendo nell'ufficio attardandosi in ufficio ha scattato foto sul suo cellulare ha documentato queste cose che poi sono andate a BMJ andatevi a leggere l'articolo integrale parla oltretutto che questo potrebbe essere una delle tanti problemi che ci sono stati cioè sostanzialmente cosa è accaduto che per mettere in circolazione sto vaccino in realtà qui si dice lo dice BMJ lo dice il giornalista lo dicono anche tantissime altre persone soprattutto il direttore che è stato licenziato immediatamente che non è stato seguito una giusta procedura e che tutte le cose sono state arruffate buttate là via gli eventi avversi cancellati ciao ciao e via tutto ecco ora io capisco tutto capisco che poi arrivino le veline e si voglia tentare di come va di modo a dire oggi sbufalare ma che vuoi sbufalare ma qui c'è una allora o questo tag si è inventato tutto il direttore si è inventato tutto e li arrestate domani mattina perché è una cosa gravissima oppure se l'articolo è ancora lì nessuno ha mai smentito le frasi l'unica cosa che si tenta di dire è ma no non è niente ma come non è niente ma come no è solo una piccola parte un gruppo ma scusate ma a me sembra veramente un discorso folle ecco questo lo dovevamo però noi invitiamo le persone anche a non fidarci di noi nel senso che fidatevi di tutti però andatela a guardare poi anche le cose che diciamo noi andatela a guardare con i vostri occhi ma non con quelli dei famosi dei famosi diffamatori di professione ok guardatelo voi leggete voi l'originale non la distorsione andate ad informare leggete l'articolo vedete Paul Tucker è il giornalista ok andate a cercare chi è questo signore fate i controlli incrociati ecco cominciate a riacquisire la cognitività e la capacità personale di ognuno di noi caro Francesco di saper valutare autonomamente noi non abbiamo bisogno delle capo delle figliuole delle cosi dei bubù noi certo loro sono esperti ma anche noi possiamo leggere studiare e anche farci un'idea che